Scusi signorina Mi scusi tanto La salma di René Straub è stata composta nella cappella Sotto l'organo Bene Faccio portare anche delle corone di fiori e delle candele Ho già telefonato al fioraglio Come sta mia zia Cristina? Erre quieta Raddoppi la dose E mio cugino Erlich? Condizioni stazionali Signorina Polla Temo, purtroppo, che dovrà porre fine a una delle tradizioni dell'Essé Lissé Vede, finora in villa hanno accolto solo infermiere Ma Da domani Accoglieranno solo ed esclusivamente infermieri Signorina Bonzani Non lascerò che mi si tolgano i tre fisici Sono i miei casi più interessanti Ma è inutile La mia decisione è irrevocabile Sono proprio curiosa di sapere dove andrà a trovarli questi infermieri Data la scarsità di mano d'opera che c'è al giorno d'oggi Di questo però lei non si deve preoccupare Me ne occuperò io È arrivata la moglie di Mopius Sto aspettando nel salotto verde Faccio entrare La cartella clinica di Mopius Grazie Ma se per esempio Signorina Bon Per favore